Salve sono Urbano della San Imoreno Volkswagen Audi di Fucecchio oggi vi presento una nuova arrivata del nostro barco vettura usata si tratta di questa Audi A4 Avant ed è un 2000 turbodiesel 150 cavalli cambio S-tronic dell'anno 2017 andiamo a vedere adesso le specifiche della nostra vettura partendo dalla carrozzeria esterna di questo bel colore grigio-argento brillante e come potete vedere non ci sono graffi non ci sono ammaccature quindi esternamente la macchina si presenta molto ma molto bene adesso andiamo anche a vedere gli accessori della nostra vettura e partiamo dal faro Xenon anteriore e come potete vedere anche la plastica esterna bella lucida quindi al 100% della sua funzionalità sensori di parcheggio anteriori sensori di parcheggio anche posteriori cerchi in lega bicolore cromati con il nero da 18 pollici abbinati con le sue gomme invernali cromature esterne girovetri con i suoi mancorrenti cromati sopra il tetto mascherina anteriore cromata e le finiture cromate anche sul paraulti e adesso siamo all'interno della nostra vettura andiamo a vedere proprio le specifiche intanto visive visive significa andiamo a vedere come è il cruscotto quindi bello con tutte le plastiche guardate qua belle lucide non ci sono graffi non ci sono usure come è bello lucido sono belle lucide le parti satinate verniciate guardate qua il console centrale spettacolare pannelli delle porte sono spettacolari quindi un ambiente interno molto molto bello e a livello di accessori troviamo il suo freno a mano elettronico leva del cambio estronico con le sue posizioni la pulsantiera dove abbiamo tutte le nostre funzioni ora le vediamo una per una interruttore della messa in moto facilitata messa in moto è naturalmente speggimento della nostra vettura climatizzatore automatico a tre zone tre zone significa un'anteriore destra un'anteriore sinistra e la zona posteriore dove abbiamo anche il display per modificare la nostra temperatura sotto abbiamo l'interruttore per i sensori di parcheggio e lo troviamo naturalmente sul nostro display dopo di che abbiamo anche il drive select dove io posso modificare lo stile di guida della mia vettura abbiamo il navigatore come vi ho già fatto vedere la cartina cambia di colore perché in fase in fase notturna con i fari accesi è anche più scuro il nostro display troviamo il bluetooth e abbiamo anche l'interruttore del comando vocale quindi posso richiamare i miei numeri oppure quando ho il navigatore anche gli indirizzi volantino multifunzione con il comando vocale che vi ho già detto sulla sinistra altri interruttori di comando e troviamo anche le palette per il cambio automatico quindi con queste posso variare manualmente le marce con il meno le scaliamo con il più le aumentiamo cruise control della nostra auto interruttori sul pannello sinistro dei vetri elettrici e l'interruttore degli specchietti ad apertura e chiusura elettrica eccolo qua i chilometri sono 108.400 e sono tutti completamente tagliandati presso il nostro service audi quindi una vettura che noi conosciamo molto bene perché è appartenuta ad un cliente nostro da vari anni quindi una vettura ripeto che la conosciamo molto bene e adesso andiamo a vedere la nostra tappezzeria di questo bel tessuto colore nero e guardate qua è spettacolare non ci sono strappi sul tessuto e nelle cuciture non ci sono buchi di sigarette perché il precedente proprietario non fumava quindi la vettura all'interno come abbiamo già visto è veramente spettacolare dopodiché come il nostro solito è stata lavata e igienizzata a vapore con questa lavorazione specifica infatti il risultato è l'avere un interno vettura un interno vettura un abitacolo spettacolare pulito profumato quindi quando saliamo sulla nostra auto è veramente un piacere bagagliaio anche questo intanto pulito perché ha avuto la stessa lavorazione a vapore dell'abitacolo anteriore quindi pulito e profumato poi spazioso perché è bello ampio bello lungo poi abbiamo il sedile posteriore sdoppiato con la possibilità di buttarlo ancora giù per avere ancora molto più spazio e quindi sotto il nostro pianalino il nostro ruotino di scorta di emergenza e poi abbiamo naturalmente tutte le l'attrezzatura per sostituirlo va il motore bello da vedere anche questo pulito con tutti i suoi componenti al loro posto da partire dalle plastiche tubo in gomma centraline le spinette elettriche tutto al loro posto perché prima di tutto cosa conta nelle autovetture in qualsiasi autovettura è la manutenzione quindi una vettura deve essere controllata molto bene e questo ha avuto come vi ho detto tutti i servizi Audi presso la nostra officina dopodiché prima di essere messa in vendita viene comunque controllata ancora seguendo una checklist multicontrollo interna nostra e sono praticamente 110 punti da verificare singolarmente affinché la vettura sia completamente funzionante e quindi nella norma poi ci viene abbinato 12 mesi di garanzia come prescrive la legge con possibilità per il cliente di fare un'estensione fino a 24 mesi possibilità di pagamenti rateali personalizzati con più soluzioni che vi saranno naturalmente spiegati in sede e adesso salite in macchina insieme a me e andiamo anche a fare un giro di prova su strada e adesso siamo all'interno della nostra vettura e siamo partiti intanto posizione di guida classica Audi da viaggio comoda con il sedile veramente ampio e quindi molto accogliente cambio automatico anche questo con un ottimo funzionamento le partenze risultano molto regolari le cambiate anche quelle regolari infatti non si sente assolutamente nessuno scossone come è ottimo l'assetto stradale la vettura va veramente dritta su strada volante dritto non ci sono assolutamente vibrazioni sulle gomme precisa è anche la scatola di sterzo leggera e precisa insonorizzazione dell'abitacolo anche questa ottima e l'insonorizzazione è ottima anche quando andiamo a cercare le classiche buche sulle strade e sentiamo sì il lavoro delle sospensioni ma la silenziosità nell'abitacolo risulta eccellente e la vettura è già stata controllata quindi è già tutta funzionante e quindi pronta per essere acquistata e ve la possiamo anche presentare in anteprima tramite whatsapp video se abitate lontano ve la possiamo presentare in diretta tutti i suoi particolari abbiamo come vi ho fatto vedere tutti gli interruttori sotto controllo e con il comandino vocale se io voglio richiamo sia gli indirizzi sia eventualmente anche le telefonate quindi senza distogliere mai lo sguardo dalla strada che è la cosa più sicura che si possa fare la meccanica motore 2000 150 cavalli cambio S-tronic è il motore ideale adatto per questa vettura quindi molto buona sotto il profilo della ripresa nel percorso urbano come è ottima sul viaggio lungo nelle strade a lunga percorrenza un pochino più veloci una scorrevolezza veramente eccellente da Audi lo sapete Audi è la vettura per eccellenza da viaggio dopo queste notizie torniamo al nostro punto di partenza per darvi le ultime informazioni a questo punto vi invitiamo a visitare il nostro sito diretta autosani.it dove troverete tutte le informazioni più dettagliate sulla vettura che abbiamo appena vista troverete naturalmente anche il prezzo seguiteci poi sui social facebook e instagram al nostro indirizzo Sani Fucecchio quest'Audio A4 è già in contaconsegna è già disponibile presso il nostro punto vendita quindi vi invitiamo a venire a vederla e naturalmente anche a provarla oppure telefonate ai nostri numeri vi sarà comunque risposto a tutte le vostre domande grazie per l'attenzione vi ripeto vi aspettiamo e come diciamo sempre alla prossima vettura grazie per l'attenzione